Se non mi sentite bene, se vado troppo veloce, se leggo male, ditemelo che così cerco di migliorare. Se c'è qualcuno che vuole dare una mano è assolutamente il benvenuto o la benvenuta e basta che alzi la mano e mi dica vai Pat, voglio leggere un po' anch'io e io passo veramente la palla molto molto volentieri. Degli sprezzatori del corpo. Agli sprezzatori del corpo voglio ora dire il mio pensiero. Io non pretendo che imparino o insegnino cose diverse da quelle che hanno imparate e insegnate fin qui, bensì che dicano addio al proprio corpo e si tacciano. Io sono corpo ed anima, così parla il fanciullo. E perché non dovremmo parlare come i fanciulli? Ma l'uomo odesto e cosciente dice io sono corpo e niente altro all'infuori di ciò e l'anima non è altro che una parola per significare qualche cosa che si trova nel corpo. Il corpo è un grande sistema, una cosa molteplice con un senso solo. È guerra e pace, gregge e pastore. Uno strumento del tuo corpo è anche la tua piccola ragione, fratello mio, che tu chiami spirito. Un piccolo strumento e trastullo della tua grande ragione. Io, dici tu, e vai superbo di questa parola, ma più grande ancora, e tu non vuoi crederlo, è il tuo corpo e il suo sistema. Esso non dice io, ma è io. Ciò che percepisce il senso e intende lo spirito non ha mai fine in se stesso, ma senso e spirito vorrebbero persuaderti che essi sono fine ad ogni cosa. Tanto sono vani. Strumenti e trastulli sono sensi e spirito. Dietro a loro si cela il proprio essere, il quale cerca con gli occhi dei sensi e ascolta con le orecchie dello spirito. E sempre sta in ascolto il proprio essere e cerca, confronta, soggioga, conquista, distrugge. Domina ed è anche il dominatore dell'io. Dietro i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, fratello, sta un potente dominatore, un saggio ignoto, che si chiama il proprio essere e li abita nel tuo corpo. È il tuo corpo. Vi è maggior ragione nel tuo corpo che non ne contenga la tua miglior sapienza. E chissà mai perché il tuo corpo ha proprio bisogno della tua miglior sapienza? Il tuo essere si ride del tuo io e dei suoi salti orgogliosi. Che cosa significano questi salti e voli del pensiero? Dice in sé stesso, un sentiero soltanto per giungere al mio scopo. Io sono il filo che guida l'io, quello che gli suggerisce i suoi concetti. L'essere dice all'io cui prova dolore, ed allora esso soffre e pensa come potrebbe liberarsi dal dolore, e appunto per far ciò deve pensare. L'essere dice all'io cui prova piacere, ed esso allora si compiace e pensa al gustare quel piacere, e appunto a ciò esso deve pensare. Agli sprezzatori del corpo voglio dire una cosa, il loro disprezzo è il loro modo di valutare. Chi creò il pregio e il disprezzo, chi i valori, chi la volontà. L'essere li creò a sé stesso, il corpo si creò per sé lo spirito come una mano della sua volontà. Persino nella vostra stoltezza e nel vostro dileggio, sprezzatori del corpo, voi siete servi del vostro essere. Io vi dico, il vostro stesso essere vuol morire, e si discosta dalla vita. Egli non può far più quello che amerebbe far sempre, creare all'infuori di sé stesso. Ecco ciò che con ogni ardore vorrebbe fare. Ma ormai è troppo tardi per lui. Il vostro essere vuole perire, sprezzatori del corpo. Il vostro corpo vuole morire. Perciò diveniste sprezzatori del corpo, già che nulla vi è possibile creare all'infuori di voi stessi. E perciò voi odiate la vita e la terra. Una stolta invidia traspare dal torvo occhio del vostro disprezzo. La vostra strada non è la mia, sprezzatori del corpo. Voi non siete i ponti che guidano al superuomo. Così parlò Zarathustra. Il prossimo paragrafo è Dei piaceri e delle passioni. Lo leggo, tanto è abbastanza breve, e poi mi consulterò con voi per sapere se volete che andiamo ancora un po' avanti prima di commentare oppure no. Dei piaceri e delle passioni. Fratello mio, se tu possiedi una virtù e questa è tua veramente, tu non l'hai in comune con nessun altro. Ma tu vuoi chiamarla per nome e vagheggiarla. Tu vuoi prenderla per le orecchie e divertirti con lei. Ed ecco, ora hai in comune con gli altri il suo nome e sei divenuto plebe e grege per essa. Meglio faresti a dire senza nome è ciò che forma la dolcezza e la pena dell'anima mia, la fame dei miei visceri. Sia la tua virtù troppo elevata per la volgarità dei nomi. E se devi parlare di lei, non ti vergognare che il tuo labbro balbetti. Parla dunque e balbetta. Questo è il mio bene, è ciò che amo, ciò che mi piace. Tale voglio che sia il mio bene, non quale la legge di un Dio, o uno statuto, o una necessità degli uomini, non quale una guida al di là della terra e al paradiso. Una virtù terrena è quella che io amo. C'è poco di prudenza in essa e meno ancora di senso comune. Ma questo uccello fabbricò in me il suo nido e perciò lo amo e lo tengo caro e ora sia di me, covando le uova dorate. Così tu devi balbettare, esaltando la tua virtù. Una volta tu possedevi delle passioni e le chiamavi cattive, ora non possiedi che le tue virtù, le quali ebbero origine dalle tue passioni. Tu collocasti il tuo più sublime intento in quelle passioni ed esse allora divenne le tue virtù e la gioia. E quando tu pure fossi della razza degli irosi o dei voluttuosi o dei maniaci religiosi o dei vendicativi, tutte queste tue passioni si sarebbero ora mutate in virtù e i tuoi demoni in angeli. Una volta tu possedevi dei cani selvaggi nei tuoi sotterranei, ma ora si tramutarono in uccelli e in vezzose cantatrici e dai tuoi veleni tu stillasti il tuo balsamo, tu hai monto la tua vacca, la cura e ora tu bevi il dolce latte delle sue poppe e nulla di cattivo crescerà più da te poiché il male che nasce dalla lotta delle tue virtù. Fratello mio, se tu sei avventurato, tu possederai una sola virtù o non oltre, così varcherai più leggero il ponte. È grande dignità il possedere molte virtù, ma è pure una sorte molto pesante e più di uno si recò nel deserto e si uccise perché stanco di dover essere campo di battaglia di troppe virtù. Fratello mio, è un male la guerra e la battaglia, ma è un male necessario, necessario è dunque anche tra le tue virtù, l'invidia e la diffidenza e la calugna. Vedi come ciascuna di esse anela a ciò che vi ha di più eccelso, essa pretende per sé tutto il tuo spirito e affinché questo sia il tuo araldo essa domanda per sé tutta la tua forza nella collera, nell'odio e nell'amore. Ogni virtù è gelosa delle altre e la gelosia è una cosa terribile. Anche le virtù possono perire per la gelosia. Chi è circondato dalla fiamma della gelosia rivolge finalmente come lo scorpione contro se stesso la culeo avvelenato. Ah, fratello mio, hai tu mai veduto una virtù calugnare e trafiggere se stessa? L'uomo è cosa che deve essere superata, perciò tu devi amare le tue virtù, perché tu perirai per causa di esse. Così parlò Zaratustra. Ecco, questi sono i primi due paragrafi. Ditemi voi se preferite che mi fermi oppure vado avanti e ne leggo ancora un terzo del pallido delinquente. so che Mario P vorrebbe che io andassi a dritto per 40 minuti per cercare di finire lo Zaratustra entro Natale. Se volete io un altro paragrafo lo leggo volentieri e poi eventualmente richiedo. Ditemi un po' voi. Silenzio. Va bene, allora vado avanti. Aspetta, aspetta, magari potremmo dire qualcosina su questi due paragrafi che qualcosina si può già iniziare a dire. Sì, assolutamente. Almeno due concetti emergono da questa lettura. Palesemente, macroscopicamente, cioè già dal titolo si capisce il ruolo della virtù e il ruolo del corpo sostanzialmente. Nel primo paragrafo che abbiamo letto la trasvalutazione di tutti i valori, cioè questo rovesciamento dei cosiddetti valori metafisici, valori morali, diventa palese. Non esiste più un valore, uno spirito che sia esterno, quindi trascendente, al di fuori della realtà corporea, ma si è il rovesciamento e il corpo diventa il ricettacolo, quindi il fulcro, il perno intorno al quale l'aspetto del superuomo si può edificare. Il corpo, infatti, è sostanzialmente nel paragrafo poi seguente lo si vede bene quando parla del ponte verso il superuomo. La virtù, una volta che viene superata, diventa lo strumento. Verso la fine, infatti, dice proprio ama la tua virtù perché è sostanzialmente ciò che ti permetterà di capitolare e l'uomo deve capitolare per raggiungere una dimensione ulteriore. In qualche modo Zaratustra si pone come annunciatore di una nuova dimensione che è appunto la dimensione del superuomo ma è un annuncio ancora. Nietzsche va molto per annunci e tutto lo Zaratustra così parlo Zaratustra un vero e proprio annuncio anche perché utilizza il tempo il passato passato remoto di parlò indica proprio qualcosa detto in passato per una proiezione del futuro cioè per la creazione di un ponte quindi il corpo e la virtù diventano quegli strumenti grazie ai quali si può passare al superuomo cioè a quella dimensione che qui viene solamente annunciato non ancora ben definito però che già inizia a comparire proprio da questi primi discorsi quindi si possono dire queste così inizialmente queste due cose questi due elementi si possono dire ok allora io continuo che giustamente sì hai chiarito hai già introdotto dei concetti molto importanti vediamo se alla fine della lettura si possono riprendere e approfondire io vado avanti con il prossimo paragrafo che è del pallido delinquente voi non volete uccidere giudici e sacrificatori prima che la vittima non abbia accennato col capo ecco ora il pallido delinquente ha accennato il suo occhio rivela un grande disprezzo il mio io è cosa che deve essere superata il mio io è il mio grande disprezzo dell'uomo così dice quell'occhio il momento più sublime fu per lui quello nel quale giudicò a se stesso non fate che il sublime ricada ora nella bassezza per chi soffre in tal modo per se stesso non è altra redenzione che una pronta morte la vostra sentenza giudici deve essere pietà e non vendetta e quando uccidete state bene attenti di potere voi stessi giustificare la vita non basta che voi vi riconciliate con colui che uccidete la vostra tristezza divenga il desiderio del superuomo in tal modo giustificherete di essere ancora in vita nemico dovete dire non già malfattore ammalato dovete dire non già furfante demente non già peccatore e se tu rosso giudice volessi ripetere ad alta voce tutto ciò che hai commesso nel tuo pensiero chi non dovrebbe gridare via questa immondizia via questo veleno ma altra cosa è il pensiero altra l'atto e altra ancora l'immagine dell'atto la ruota della causa non si svolge tra loro un'immagine ha reso pallido quell'uomo egli era degno della sua azione allorché la commise ma come l'aveva compiuta non sape sopportarne l'immagine rivide sempre se stesso quale autore di un fatto io chiamo ciò demenza eccezione fatta natura una linea segnata col gesso paralizza la gallina il colpo da lui eseguito paralizzò la sua povera ragione io chiamo ciò la follia dopo il fatto udite mi giudici e ancora un'altra follia quella che precede l'azione voi non penetraste abbastanza dentro quell'anima dice il rosso giudice perché questo delinquente ha ucciso egli voleva rubare ma io vi dico la sua anima era setata di sangue non di possesso egli era setato dell'ebrezza del colpire ma la sua povera ragione non comprendeva una tale follia e lo persuase che valore ha il sangue gli disse non vuoi almeno arricchirti di qualche cosa nello stesso tempo o vindicarti ed egli ascoltò la sua povera ragione le sue parole pesavano su di lui come piombo e allora rubò mentre uccideva egli non voleva dover vergognarsi della sua follia e ora pesa nuovamente su di lui il piombo della sua colpa e un'altra volta la sua ragione intorpidita paralizzata pesante se egli potesse solamente scrollare il capo il suo peso svanirebbe ma chi può far scrollare quel capo che cos'è quest'uomo una malattia che col mezzo dello spirito agisce sulle cose esteriori in cerca di una preda che cos'è quest'uomo un gruppo di serpenti irrequieti e feroci ciascuno di quali cerca per una propria via la preda guardate quel povero corpo ciò che gli sofferse e desiderò fu interpretato dall'anima quando ebramosia assassina e desiderio della volutà del coltello chi è ammalato viene colto da quel male che oggi è detto delitto e gli vuole cagionare dolore mentre ciò che gli procurava dolore scusate e gli vuole cagionare dolore mediante ciò che gli procurava dolore ma vi furono altri tempi e altro bene e altro male una volta il male era il dubbio e lo spirito di indipendenza e allora l'ammalato diventava un eretico o una strega e quale eretico o quale strega egli soffriva e voleva far soffrire ma i vostri orecchi sono sordi a questo voi mi dite che c'ho nuoce ai buoni che sono tra voi ma che mi importa dei vostri buoni molte cose nei vostri buoni mi destano la nausea e dirvi ciò che vi è di male in loro e il meno peggio quanto sarei contento se fossero colti da una demenza che li facesse morire come questo pallido delinquente questo vorrei che la loro follia si chiamasse verità o sincerità o giustizia ma essi possiedono la virtù per poter vivere a lungo nella loro miserabile contentezza io sono il parapetto di un fiume si appogge a me chi può ma io non sono la vostra stampella così parlò Zaratustra il prossimo paragrafo si intitola del leggere e scrivere di tutto ciò che è scritto io non amo se non quello che taluno scrisse con il proprio sangue scrivi col sangue e tu apprenderai che il sangue è spirito non è facile comprendere il sangue degli altri io odio i lettori oziosi chi conosce il lettore non farà mai più nulla per lui ancora un secolo di lettori e lo stesso spirito sarà un cadavere che sputa che tutti sappiano leggere ecco ciò che a lungo andare guasta non solo lo scrivere ma anche il pensiero una volta lo spirito era Dio poi si fece uomo e finirà col diventare plebe chi scrive col sangue in aforismi vuole non soltanto essere letto ma anche tenuto a memoria il montagna e il sentiero più breve conduce il culmine in culmine ma per seguirlo sono necessarie buone gambe gli aforismi devono essere culmini e quelli per cui sono scritti devono essere alti e forti l'aria era refatta e pura il pericolo vicino e lo spirito ravvivato da una malizia gioconda ecco alcune cose che stanno bene insieme io sono coraggioso voglio avere dei folletti intorno a me le crea a se stesso il coraggio che scaccia i fantasmi il coraggio vuole ridere io non sento nello stesso modo che voi questa nube che io miro ai miei piedi questa cosa cosa pesante della quale io rido è per voi la nube gravida di tempesta voi guardate in alto quando sentite il bisogno di esaltarvi ed io guardo giù perché sono esaltato chi di voi sa ad un tempo sentirsi esaltato e ridere chi è salito sui più alti monti ride di tutte le tragedie del teatro e della vita coraggiosi incuranti beffardi violenti Tadi ci comanda di essere la sapienza la quale è donna e non ama che i guerrieri voi mi dite la vita è difficile da sopportare ma allora che cosa vi servirebbe al mattino il vostro orgoglio e alla sera la vostra rassegnazione la vita è difficile da sopportare per carità non pretendete di essere tanto delicati noi tutti insieme siamo asini e asine destinati ad essere caricati che cosa abbiamo noi di comune col bottoncino della rosa il quale trema per il peso di una goccia di rugiada è vero noi amiamo la vita non già perché siamo a sue fatti alla vita bensì perché siamo avvezzi ad amare c'è sempre una qualche parte di demenza nell'amore ma anche nella demenza c'è una parte di ragione ed anche a me che amo la vita e le farfalle e le bolle di sapone e ciò che loro somiglia tra gli uomini sembra di conoscere meglio di ogni altro la felicità e deve svolazzare coteste e animelle leggere sverte graziose ciò sedusse Zaratustra al pianto e al canto io non potrei credere se non in un dio che sapesse danzare quando guardai il mio demonio lo trovai serio pesante profondo solenne era lo spirito della gravità per causa della quale cade ogni cosa non con l'ira si uccide bensì con il riso quindi uccidiamo lo spirito della gravità ho imparato a camminare da allora in poi mi piace correre ho imparato a volare da allora in poi non voglio più essere spinto se mi piaccia di spiccarmi da un luogo ora io sono leggero ora volo ora per me danza un dio così parlò Zaratustra e così noi abbiamo letto altri due paragrafi qualcuno ha voglia di dire qualcosa di intervenire di non so anche dire che non ha capito ad esempio questo è un paragrafo abbastanza complicato e niente ok allora vado avanti di un altro paragrafo e poi nel caso cominciamo un pochino a discutere dell'albero sulla collina Zaratustra aveva scorto un giovane che cercava di schivarlo e mentre una sera si aggirava solitario sulle colline che circondavano la città la quale si chiama la giovenca variopinta trovò quel giovane seduto accosto ad un albero che con occhio stanco guardava giù nella valle Zaratustra appoggiandosi all'albero alla cui ombra sedeva il giovane parlò così se io volessi scuotere con le mie mani quell'albero non potrei ma il vento che noi non vediamo lo muove e lo piega a suo piacere noi siamo scossi e piegati nel peggiore dei modi da mani invisibili allora il giovane si alzò sgomento e disse io sento la voce di Zaratustra ora per l'appunto pensavo a lui Zaratustra rispose e perché ti sgomenti di questo succede dell'uomo quel che è dell'albero quanto più egli tende all'alto alla luce con tanta maggior forza le sue radici tendono verso la terra in giù nell'oscurità nella profondità nel male sì nel male esclamò il giovane come è mai possibile che tu legga nella mia anima Zaratustra sorrise e disse molte anime non si potranno mai scoprire se prima non saranno rivelate a se stesse sì nel male ripete il giovane tu dicesti la verità Zaratustra io non confido più neppure in me stesso già che aspiro ad elevarmi e nessuno ha più fiducia in me come mai avviene ciò io muto me stesso troppo presto il mio io oggi è in contraddizione con quello di ieri io salto i diversi gradini alla volta nel salire e nessun gradino mi perdonerà ciò quando ho raggiunto la sua mità mi trovo sempre solo nessuno parla con me il giro della solitudine mi fa tremare che cosa cerco io lassù il mio disprezzo e il mio desiderio cercano insieme quanto più alto io salgo tanto più spregio colui che sale che cosa va a cercare egli lassù quanto mi vergogno di salire e di incespicare come mi rido del mio ansioso affannarmi come odio colui che vola come mi sento stanco sulle alture qui il giovane tacque e Zaratustra contemplò l'albero presso il quale se ne stavano e parlo così quest'albero è solitario sul monte e gli crebbe molto sopra gli uomini e gli animali e se volesse parlare nessuno lo comprenderebbe tanto esso è eccelso e ora egli attende ed attende che cosa egli attende mai egli dimora troppo vicino al regno delle nubi forse attende la prima folgore quando Zaratustra ebbe detto ciò il giovane esclamò con voce violenta sì Zaratustra tu dici il vero desiderai la mia distruzione quando vogli salire e tu sei il fulmine che io attendevo vedi che cosa sono io ormai dopo che tu mi sei apparso l'invidia di te mi ha distrutto così parlò il giovane e pianse amaramente ma Zaratustra lo cinse del suo braccio e lo trasse seco e poi che ebbero camminato per un tratto Zaratustra incominciò a parlare così ciò mi stia grazie cuore meglio che non possano le tue parole l'occhio tuo esprime tutto il tuo pericolo ancora non sei libero tu vai ancora in cerca della libertà stanco delle veglie ti ha preso il tuo cercare ed insonne tu ti senti spinto verso le libere altezze la tua anima ha sete delle stelle ma anche i tuoi cattivi istinti sono assetati di libertà i tuoi cani furiosi anelano di essere liberi abbaiano per la gioia nel loro canile mentre il tuo spirito pensa a spalancare tutte le carceri per me tu sei ancora un prigioniero che cerca il modo di rendersi libero ahimè in tali prigionieri l'anima si fa ingegnosa ma anche perfida e falsa devi ancora purificarsi chi già si è saputo liberare nello spirito risente egli ancora molto del carcere e della muffa il suo occhio deve diventare limpido sì io conosco il tuo pericolo ma nel mio amore e per la mia speranza ti scongiuro non far getto del tuo amore e della tua speranza tu ti senti ancora nobile ed anche gli altri sentono che sei tale quelli che ti sono nemici e ti guardano torvi sappi che l'uomo nobile riesce di impedimento a tutti anche ai buoni l'uomo nobile è di impedimento ed anche proclamandolo buono essi vogliono cacciarlo da loro l'uomo nobile vuole creare cose nuove ed una nuova virtù ma il buono ama l'antico e vuole che l'antico sia conservato pure il pericolo che corre un uomo nobile non è già quello di diventare buono bensì di farsi insolente schernitore distruttore ahimè assai nobili uomini io conobbi che perdettero le loro più sublimi speranze e allora presero a calugnare tutte le sublimi speranze allora presero a vivere insolenti tra brevi orge e di rado seppero fissarsi una meta di là dalla giornata anche lo spirito è voluta dicevano essi ed allora spezzavano le ali dello spirito sì che questo striscia ora al suolo e insozza chi lo tocchi una volta credevano diventare eroi ora sono dei viziosi vedono di mal occhio e temono l'eroe ma per il mio amore e per la mia speranza io ti scongiuro non far getto dell'eroe che in te tieni sempre sacra la tua più sublime speranza così parlò Zaratustra approfitto per dire che se ci sono delle discrepanze tra ciò che sto leggendo e le pagine che vedete scorrere sullo schermo è perché io sto leggendo da un libro sono collegata da cellulare e non riuscirei a leggere le pagine sulla schermata il libro ha una traduzione diversa da quella che stiamo condividendo quindi appunto se ci sono delle piccole differenze spero non siano troppo di disturbo mentre seguite però questa è la motivazione Simone che facciamo andiamo ancora avanti un pezzettino oppure ci fermiamo e commentiamo ma possiamo possiamo anche commentare abbiamo cioè ci sono anche qua nei paragrafi precedenti introdotte alcune cose interessanti tipo la danza è vero che è un concetto base se vuoi dire qualcosa tu su quello come vuoi tu è un concetto interessante cosa vuol dire danzare oppure la sapienza è una donna e ama un guerriero anche un altro concetto importante vedo aspetta che Zoe forse vuole parlare aspetta un attimo che la smuto ecco puoi parlare Zoe se vuoi non so se mi sentite bene perché ho problemi con il wifi ti sentiamo bene ok ok a proposito di quello che state dicendo appunto in realtà io sono un po' profana di queste cose di filosofia però mi interessano e stavo leggendo un libro che faceva riferimento a una filosofia orientale e quindi volevo sapere se c'erano dei collegamenti diretti anche nel termine danzare questi concetti qui oppure nel capitolo del palido delinquente fa riferimento al superamento dell'io e insomma questo concetto mi ha ricordato molto queste cose orientali però non so se c'è un volevo sapere se voi avevate un parere a riguardo ok Simone puoi rispondere tu ok va bene va benissimo allora Nietzsche probabilmente conosceva il pensiero indiano relativamente bene perché un suo conoscente un suo amico di cui al momento non mi ricordo il nome era un traduttore di testi indiani quindi è probabile che una qualche minima conoscenza l'avesse sicuramente ci potrebbe essere una lettura un filone di lettura orientale anche perché nella seconda metà dell'ottocento c'è stata una vera e propria iniezione di cultura orientale cinese e soprattutto giapponese dal mondo dell'arte lo si vede per esempio in Van Gogh una casa nel mondo della letteratura c'è tutta tutta una fase no ma comunque una parte della produzione di D'Annunzio è ispirata a alcune letture giapponesi quindi c'è sicuramente tutto un grande filone di ricerca diciamo e di affluenza del pensiero orientale per cui sì sicuramente sicuramente c'è è una lettura che effettivamente si trova l'unica cosa l'unica differenza è appunto questo superamento dell'io che per noi occidentali è un superamento per gli orientali è il punto di partenza per i buddhisti non esiste l'io quindi non si parte neanche dall'io l'io è semplicemente un nome che noi che noi che noi diamo in realtà noi siamo buddha quindi c'è questa questa lettura quindi sicuramente c'è un tentativo di assumere all'interno del pensiero occidentale canoni orientali quello sì ok grazie so che era un po' generica la mia domanda però appunto avevo letto questo libro di Raphael poi magari lo scrivo nel gruppo sì grazie così ci segniamo tutti i libri che vengono suggeriti magari perché io non ci ho capito niente cioè nel senso ho provato ad analizzarlo un po' però sono concetti molto molto lontani che fanno riferimento anche tipo all'advaita non so se lo vedo più bene però appunto li ho rivisti li rivedo ogni tanto così un po' a macchia in questo testo anche se non conosco bene lì in realtà e quindi volevo sapere se voi avevate appunto però è un ottimo commento quello che ha fatto Simone possiamo aggiungere qualcosa sul vai Simone scusami se vuoi no no ho pigiato il tasto proprio sbaglio scusa ok ok e vabbè prima appunto mi dicevi di dire qualcosa a proposito della danza no che Zaratustra per l'appunto cita in relazione al dio lui cita il riso cita la gioia cita la danza tutto questo mette in relazione ad un'idea di divinità che è chiaramente molto lontana da quella del cristianesimo in particolare e quindi da una divinità punitiva dalla divinità alla quale fanno riferimento appunto gli sprezzatori del corpo oppure quelli che si allontanano dal mondo sia dai suoi piaceri che dai suoi dolori e quindi in generale delle passioni e perché Zaratustra parla appunto della danza della danza che ci mette in relazione in collegamento con il Dio perché qui Nietzsche qui si vede bene il riferimento che Nietzsche fa in particolare alla filosofia greca alla classica e la danza è una manifestazione sia di Dioniso che di Apollo quindi di due dei che sono agli antipodi l'uno dall'altro ma che nella danza hanno comunque uno strumento di manifestazione di espressione della loro volontà e anche attraverso la danza calano il sacro all'interno della realtà che invece è profana per quanto riguarda Dioniso abbiamo appunto la danza sfrenata maniacale delle menadine e le baccanti e invece per quanto riguarda Apollo abbiamo una danza più ordinata che è quella delle sue vestali o di coloro che lo celebrano e che sono più legate ad un tipo di sapere oscuro perché è oracolare quindi non è maniacale non è derivato dalla mania dalla follia dalla demenza e quindi da qualcosa che Dioniso ha a che vedere con la realtà ma viene dalle viscere per l'appunto di essa no e dalle sue oscurità dalle sue caverne buie e invece Apollo ha un modo oracolare di esprimere appunto i propri oracoli quello che ha da dire che invece ha a che fare con l'ordine con la luce eppure sempre di danza si tratta ed è per questo motivo che Zaratustra collega la danza ma collega anche il canto come forma di oracolo al corpo e collega quindi il corpo anche a ciò che non si deve più disprezzare ma come avevamo detto anche la volta precedente che invece si deve assolutamente esaltare perché di fatto noi non abbiamo che questo quando lui ci dice che il corpo non è la gabbia non è il contenitore la culla dell'anima sono parole anima è una parola che non ha senso per Zaratustra e per Nietzsche non è il contenitore dell'io il corpo è l'io e di conseguenza i valori o la virtù ad esempio deve essere fondata nell'io e quindi nel corpo non deve essere calata dall'alto non è qualcosa che appartiene ad un altro mondo ad un dio ad un sapere che per noi è sempre inaccessibile no? tutte le volte che pensiamo di aver toccato la cima dell'asticella questa si alza ancora quando la virtù arriva dall'alto invece lui ci dice non solo che la virtù appunto è qualcosa non soltanto che dobbiamo coltivare in noi stessi ma che già si trova in noi stessi e che appartiene solo a noi non è insegnabile non è trasmissibile noi ne siamo totalmente responsabili e siccome il nostro corpo è fatto di dolore di piacere di riso di pianto di passione anche delle passioni più negative allora è chiaro che la virtù dalle passioni deve nascere qui c'è proprio la totale opposizione a tutto ciò che invece ha demigrato le passioni a tutte quelle filosofie che nelle passioni invece hanno visto una forma di riduzione di opposizione a ciò che porta l'uomo alla conoscenza e quindi io ho dato queste suggestioni vi viene a mente qualche altra cosa qualche parola sentite ad esempio questo fratelli miei che viene spesso utilizzato e in genere si fa sempre riferimento ad un linguaggio religioso un linguaggio ecumenico è vero però qui butto una cosa io secondo me fino a un certo punto proprio per il grande legame che Nietzsche ha con la filosofia greca e il fratello come legame di sangue per la filosofia la più antica è una figura è un ruolo estremamente particolare pensate ai versi di Antigone appunto nella tragedia di Sofocle quando Antigone dice che lei non avrebbe mai sfidato la legge degli uomini se avesse dovuto seppellire contro il parere dei regnanti del regnante di Creonte il figlio oppure il marito li avrebbe lasciati appunto mangiare dai cani dagli animali li avrebbe lasciati per terra senza seppellirli anche se erano il marito e il figlio ma non avrebbe potuto fare la stessa cosa per il fratello per Polinice lei viene beccata mentre sta cercando di dargli sepoltura e per questo viene condannata a morte sostanzialmente essere seppellita viva lei dice questa cosa che è stata a lungo a lungo analizzata è stata oggetto di grande contrasto di grandi analisi e confronti io invece un fratello non potevo non seppellirlo perché non avrò mai più un altro fratello potrò avere un altro figlio potrò avere un altro marito ma non avrò mai più qualcuno che è in linea di sangue pari a me ecco io penso che ogni volta che Zaratustra annuncia l'oltreuomo ogni volta che Zaratustra dice fratelli miei fratello mio di fatto fa riferimento proprio a questo a qualcosa che è unico che è un suo pari ma proprio dal punto di vista della linea di sangue non soltanto del sangue che si trasmette mettiamola così perché si deriva dagli stessi genitori ma proprio del sangue inteso come qualcosa di diverso ieri mi è capitato di riesumare dei frammenti di Empedocle proprio sul sangue Empedocle fa Empedocle mi conoscevo molto bene Empedocle Empedocle che fa tutto un lungo discorso su che cosa sia la vera conoscenza la paragonale al sangue che fa pulsare il cuore e io credo che ci siano anche questi riferimenti però è una mia suggestione è qualcosa che condivido con voi e qualcos'altro qualcuno che ha voglia di dire qualcosa ecco io avevo visto comparire unico che poi naturalmente è scomparso cioè è venuto e è scappato e va bene e Simone Mancio non so c'è qualcun altro che ha voglia di aggiungere qualcosina che ho parlato io finora ma qualcosina è molto interessante lo spunto quello che hai lasciato su su Empedocle che è notevole quello che dicevi tu prima perché effettivamente la figura del fratello nel mondo greco è è centrale anche nella della mitologia proprio anche nello scambio di sangue anche solo la costellazione dei gemelli Castor e Polluce è vero ha una dimensione la gemellarità che è notevolissima e c'è un libro abbastanza recente di Emanuele Coccia filosofia della casa in cui va a dedicare lui è un suo fratello è un gemello e va a dedicare proprio un capitolo dedicato proprio alla gemellarità cioè alla dimensione dell'essere gemello alla dimensione dell'avere un fratello come modo di abitare il mondo che è veramente notevole mi ha fatto venire in mente questo questo aspetto ovvio la dimensione di Coccia andrebbe a cocciare diciamo col gioco di parole con Nice perché non c'è questa dimensione quindi Nice lo vedi quando appunto c'è quell'affermazione dell'amore che la sapienza è una donna e ama il guerriero ama l'uomo forte è in netto contrasto con l'invidia il ragazzo che prova invidia di Zaratusta l'uomo l'uomo calavir tu che in qualche modo deve provare invidia questo è proprio il ribaltamento che ho per Nice l'invidioso non è il forte l'invidioso è il debole che deve provare invidia del forte il forte è colui che è libero dall'invidia e si nota questo passaggio quindi è il cavaliere è il guerriero proprio perché è colui che si può che si può liberare dal dall'invidia dal gioco dell'invidia dal gioco del dipendere da da altri e la dimensione quindi della gemellarità dell'essere fratelli ha questo questo aspetto che appunto ha sicuramente un richiamo religioso e comunico ma può anche dire portare tutti sul medesimo sul medesimo livello cioè non invidiare tuo fratello perché è un tuo gemello e quindi c'è questa tra virgolette questa non eguaglianza perché è un termine che annice non è che piacerebbe troppo però c'è una dimensione quasi tra virgolette aristocatica ma nel senso etimologico del termine cioè i migliori cioè i migliori si guardano in faccia e quindi insieme possono andare avanti ma perché sono migliori quindi sicuramente c'è questo riferimento che hai fatto molto interessante ok ti ringrazio c'è qualcun altro che ha voglia di aggiungere qualcosa niente stasera siamo soli soletti tu ed io Simone a discutere anche se tra pochino chiuderemo il gruppo di lettura perché ci siamo dati come limite in genere un'oretta proprio per rendere più piacevoli i gruppi di lettura per non farli diventare troppo noiosi che cos'altro possiamo dire rispetto alle cose che abbiamo letto della virtù abbiamo parlato degli sprezzatori del corpo e invece di chi lo deve esaltare anche qualcosa ad esempio riguardo al ancora alle virtù fondate sulle passioni come è possibile fondare la virtù sulle passioni su tutte le passioni quindi anche su quelle negative Zaratustra insomma Nietzsche nel libro cita delle passioni estremamente negative come la rabbia come l'odio la furia l'invidia come è possibile far nascere la virtù anche da queste e come facciamo ad estrapolarlo dal dal testo c'è questa quest'idea di Zaratustra che tutto possa essere sempre rovesciato costruttivamente cioè tutto serve al superuomo sostanzialmente anche le passioni negative cioè si va e si diventa insomma superuomo ci si supera soltanto costruendo ricostruendo anche dalle materie di ciò che abbiamo distrutto e quindi anche dalla propria rabbia quindi anche dalla propria furia quindi anche dalle proprie bassezze proprio perché si è responsabile di una virtù che non è trasmissibile che non si può insegnare non si può trasmettere ma riguarda soltanto noi e la nostra volontà la nostra azione allora questa deve derivare anche dalle nostre passioni più negative più infime perché ci sono Zeracustra ci dice proprio questo se tutto deve essere tirato fuori e allora il tirarlo fuori implica anche fare emergere delle oscurità no e quindi quindi fa riferimento anche a questo che altro possiamo vedere prima che ci salutiamo anche perché i prossimi paragrafi riguarderanno i predicatori della morte appunto e poi arriveremo anche alla guerra ai guerrieri prima Simone aveva citato il rapporto tra la donna e il guerriero perché ci dice che la donna tende al guerriero perché in questo senso ora io lo accenno poi lo approfondiremo perché su questo argomento Zeracustra tornerà in seguito anche con degli aforismi anche con dei pezzi che sono diventati estremamente famosi però questo c'è una complementarietà che va sostanzialmente verso il superuomo che Nietzsche vede che riprende anche in questo caso dalla filosofia classica dalla filosofia greca laddove si devono ricoprire dei ruoli estremamente precisi e quindi laddove l'uomo è addestrato al combattimento nel mondo letteralmente proprio a spostarsi a muoversi nell'agone del mondo e della politica della polis dell'agorà la donna no la donna è destinata a qualcosa di diverso non è un caso prima io vi ho citato come suggestione Antigone non è un caso che Antigone che appunto trasgredisce una legge estremamente importante che è appunto quella di non seppellire i traditori della città che invece devono essere lasciati fuori dalle mura della città a essere corrosi a essere distrutti appunto dagli animali dalle interferie sono corpi che devono servire da monito da esempio per tutti gli altri ecco la pena per chi prova a seppellirvi sarebbe quella della lapidazione pubblica invece Creonte quando scopre Antigone non la fa lapidare pubblicamente ma la fa appunto chiudere seppellire viva all'interno di una grotta di una buca perché perché così lui destina Antigone a quello che è il suo ruolo anche in vita quello che era il ruolo delle donne greche in vita e cioè di vivere come un tuttuno con il loro telaio all'interno nemmeno di tutta la casa greca ma proprio della camera in particolare delle loro stanze perché le donne greche le mogli sostanzialmente le figlie li vivevano non avevano accesso alla vita pubblica non potevano spostarsi se non all'interno della casa e vivono moltissimo all'interno di poche stanze dentro la casa stessa e quindi è chiaro che Antigone che deve subire la sorte di chi ha trasgredito non può avere un'esecuzione pubblica perché l'esecuzione pubblica entrerebbe in contraddizione con l'idea che si aveva allora della donna che non aveva nessun ruolo nessuna visibilità pubblica per cui lei deve certo subire la legge per quello che è quindi la punizione per averla trasgredita ma deve subirla nel buio nell'oscurità nella solitudine perché Antigone paga anche questa colpa quella di essere emersa e quindi di aver rotto il proprio ruolo ecco che Nietzsche riprende questa tradizione e ci dice che se la donna è destinata al guerriero lo è perché non è una guerriera sostanzialmente perché per lui deve ricoprire un altro ruolo Simone ho colto bene quello che mi hai detto riguardo a questo oppure vuoi aggiungere qualcosa no assolutamente hai colto hai colto il punto e appunto ci deve essere questa questa complementarietà quella che quella che dicevi tu che dicevi tu prima l'uomo deve comportarsi e deve essere appunto diametralmente opposto quindi deve essere lo spirito forte lo spirito guerriero lo spirito combattivo quello dell'agone politico che non solo politico ma in generale che ti dicevi tu quindi e c'è questa complementarietà che appunto vedremo poi bene nelle letture seguenti comunque sì c'è assolutamente quello che dicevi tu ok allora io faccio ancora la domanda fatidica c'è qualcuno che ha voglia di dire qualcosa di aggiungere fare qualche domanda oppure ci avviamo ai saluti e ci aggiorniamo alla registrazione che condivideremo e poi al prossimo incontro la prossima settimana vediamo un po' se si alza qualche manina niente vedo tutti aspetta vai mancio dai dacci una mano ho detto pare di no per dire una cosa che continuavo a chiamarmi durante la la serata sì ma io non riuscivo a fare entrambe le cose se vede che fosse già andato telegram ho sbagliato io rispetto al solito qualcosa nello share dello screen ma non riuscivo a parlare e a condividere lo schermo contemporaneamente ho capito ho capito scusami allora scusa volevo vabbè dato che siamo in coda così per parlare ancora magari cinque minuti dire una cosa magari deviando un po' insomma prendendo spunto più che altro che è stato sull'argomento una cosa che hai detto tu tipo mezz'ora fa parlando di anima e corpo forse dicevi che dice sprona ad abbandonare la ricerca forse delle virtù dell'anima per sposare le virtù che emergono dal corpo che sorbino dall'ecistitore le virtù dell'anima non hanno senso cioè le virtù non sono legate all'anima perché il concetto di anima non ha nessun senso in Nietzsche e in Zaratustra dice di fondarle proprio nel corpo e quindi nei suoi umori e nelle sue passioni un po' questo era il discorso ok sì forse poi avevi detto qualcosa che mi aveva fatto venire in mente un'obiezione non so se a te o a Nietzsche su cosa viva fuori riguardo questo punto e che ma non è che parlando così di fatto un po' come quando uno elimina il concetto di spiritos per spiegare perché un corpo si muova e faccia delle cose togliendo il concetto di una specie di pilota non materiale che aveva uno spirito che mettiamo in testa o dove vogliamo il corpo per muoversi ecco quando lo elimina se lo sostituisce con quello il cervello di fatto ha solo cambiato nome la stessa cosa questa è l'obiezione che si fa a chi sostiene magari che il pilota così il controllore del corpo risieda nel cervello ma così lo stai cambiando semplicemente con quello stai cambiando nome allo spirito lo stai chiamando cervello e così la situazione si può fare almeno su un aspetto del tuo discorso che forse non è il punto ma era comunque implicato era la base del discorso sull'identificazione del corpo che poi alla fine fa la funzione del soggetto cioè è un po' questo quello che rimane un po' così su cui sorgono dei dubbi insomma se il soggetto viene eliminato anche per quanto si è detto in relazione alla tradizione di filosofia orientale per cui ha detto Simone che il soggetto non esiste eccetera se il punto se questo soggetto viene eliminato viene eliminato come come spirito anche se l'abbiamo chiamata anima io preferisco dirlo spirito comunque indifferente basta mettersi d'accordo se poi la società diventare il corpo non siamo un po' punto e a capo con il problema non so se qualcuno vuole rispondere è una riflessione al di là di quello che dice che quel po' che ho letto io di poi di là mi sembra che dica anche un po' tutto il contrario di tutto quindi non è non è facilissimo sicuramente non si può ricondurre il suo pensiero a un unico pensiero coerente bisogna prenderlo un po' così a sputti secondo me dove dice qua dove dice là insomma quindi non è una riflessione una critica a Nietzsche è una riflessione solo a qualcosa che hai detto tu Pat ispirata da Nietzsche chi vuole rispondere dica pure se non si è punto a capo sostituendo con lo spirito l'anima quello che che è con il corpo ecco allora io posso risponderti attaccandomi all'analisi che Heidegger fa di Nietzsche però chiaramente è una proposta perché ne sono state fatte tante di analisi tante riflessioni su di lui sul suo pensiero tu hai ragione quando dici che spesso a volte sembra che Nietzsche in così parlò Zaratustra sembra dire tutto è il contrario di tutto però proprio l'attacco di così parlò Zaratustra o meglio la dedica che lui fa all'inizio del libro è che questo libro così parlò Zaratustra è un libro per tutti e per nessuno quindi è indirizzato a tutti ma inizio questo lo dice nelle proprie lettere dice sono sicuro che non verrà compreso da nessuno quindi è un po' questo il destino di questo libro di essere effettivamente destinato a tutti di diventare un libro molto famoso questo Nietzsche effettivamente ha colto nel segno perché è diventato il suo libro più celebre più famoso più letto anche noi a distanza di tanto tempo lo stiamo leggendo però ecco è anche un libro per nessuno cioè lui aveva già messo in conto che nessuno lo avrebbe capito cioè che si sarebbe impigliato nelle sue contraddizioni nelle sue oscurità appunto nei suoi enigmi e per quanto riguarda la questione appunto dell'anima se sia possibile sostituirla con il corpo allora cosa cambia no? se la chiamiamo anima o la cambiamo corpo ecco io mi riattacco ad Heidegger per Heidegger invece è estremamente importante la questione del corpo la questione del fatto che non si può pensare l'essere se non come esserci nel mondo cioè per quel ci che è dato dal nostro corpo inserito all'interno di un contesto di una realtà di un'esperienza cioè soltanto attraverso l'esserci che è possibile fare un discorso sull'essere ecco Nietzsche con il corpo si dice esattamente questo non è possibile parlare di essere non è possibile parlare di anima se non passando attraverso il corpo e questo così per cogliere la tua suggestione non so se sono insomma stata intanto abbastanza breve ma poi più che altro spero chiara boh si mi attacco cosa hai detto tu boh boh è un incipit mi attacco quel che hai detto tu magari ricollegandomi a ciò che c'era che abbiamo letto stasera c'era scritto nelle prime battute credo di quello che abbiamo letto stasera o nella prima parte ad un certo punto Nietzsche diceva cioè scriveva del nel fatto che c'è un essere più profondo che non è l'io che non è il soggetto no sì forse ne ha un po' parlato Simone però appunto lì rimane un po' scuro non si capisce se questo essere uno potrebbe leggerla un po' freudianamente come dire e pensare che sia un essere animale nel senso di bestiale più profondo a cui che il nostro vero io a differenza non che Freud dica questo però per dire adesso non mi ricordo quali sono le categorie l'es forse lo chiama l'es l'io il superio magari uno può pensare che qua Nietzsche stia parlando qualcosa un po' come l'es e che sproni a intendere quello come il proprio io oppure si può intendere proprio in un senso più filosofico pensare questo essere come come l'essere in generale lì non si capisce se è un'interpretazione un po' buddistica forse la seconda e però beh si può collegare a quello che dicevi tu sull'essere l'esserci insomma forse Simone tu vuoi dire qualcosa a proposito di questa di qui sì ok allora una cosa Nietzsche da quello che a me parso leggendolo non va mai a proporre una filosofia della negazione o dell'unio mistica cioè dell'unione mistica e della perdita no della soggettività Nietzsche questo in realtà non lo fa mai ha ragione Pat e su questo c'è la ragione Heidegger nel senso che l'interpretazione è quel ci cioè è quell'essere ci quello stare lì quell'essere lì cioè essere questo piuttosto che quello in Nietzsche c'è non cancella mai la dimensione di questo questo cancella la dimensione dell'io quello sì però tutto il suo discorso è incentrato sul tema della volontà quello è il tema centrale la volontà che ha la forza di farci superare ma non fonderci con questa unità mistica perché la fusione con il mistico è appunto l'uomo che vive sulla montagna isolato da tutti fuso con l'essere ecco Nietzsche è proprio già dal punto di partenza di questo di così panno zaratustra che vuole superare questa questa dimensione che poi effettivamente dice ma per la scelta stessa del del testo e del modo di descrivere aforistico per poesia molto evocativo aurorale nel senso di richiamare i tempi originali i tempi antichi è oggettivamente complicato ma complica lui le cose volontariamente cioè gli stesso le va a complicare sul tema del corpo che prenderebbe il posto semplicemente cambiato di nome mi nel senso che probabilmente Nietzsche ti direbbe sì se la neuroscienza ti va a dire va a stabilire che l'uomo è una serie di stimoli neuronali Nietzsche ti dice va bene scrive un'opera che si chiama la Gaia scienza in cui effettivamente può anche dire la scienza può offrire la soluzione di tutto ma quello che conta è che sia Gaia e qui ritorna quel tema della danza della felicità della gioia che è qualcosa che non è scientifico per cui non penso che ci sia un arrovesciamento cioè togli l'anima metti il corpo che avrebbe la medesima funzione in realtà no la vera e propria funzione è la di forza di forza della volontà è quello che diceva prima patta cioè la pura del sorriso la gioia la Gaia danzare quindi penso che sia penso che sia questo sull'aspetto buddistico sì c'è questo c'è questo tema che potrebbe comparire però infatti come avevo detto prima è un po' lì che c'è lo scarto forse qua Nietzsche ha preso teorie buddiste e le ha piegate un po' al mondo occidentale il grande scarto è sostanzialmente il concetto di essere che in oriente non c'è e quindi ci sono su queste dimensioni ci possono creare effettivamente un po' di incomprensioni ma anche delle feconde così figliazioni Nietzsche secondo me è una da questo punto di vista è una di queste una tra le tante altre che comparino in Nietzsche c'è anche questa quindi risponderai un po' questo a quanto hai detto tu mangio in che senso in oriente non c'è il concetto di essere e nel senso che è proprio il concetto di essere in quanto essere cioè come lo intendiamo noi non esiste proprio cioè non c'è lo si vede nel andiamo a vedere anche le varie tipologie di oriente che anche lì ce ne sono mille una cosa diversa è per esempio l'induismo che ha una una struttura ontologica e cosmologica un pochettino più simile più o meno ovviamente con tutte le distinzioni con le pinzissime con le quali affermiamo ciò ma comunque ha qualcosa di simile con il pensiero più occidentale ma nel momento in cui si va nel mondo del buddismo nel mondo del taoismo lì l'essere non esiste più non c'è una dimensione di essere come lo intendiamo noi ma è una dimensione di flusso è una dimensione c'è un libro di Julien essere o vivere sulla distinzione tra pensiero cinese e pensiero occidentale è una delle grandi distinzioni proprio quella l'occidente all'essere il pensiero orientale ha il vivere alla vita sono due cose completamente diverse addirittura in Giappone tutta la filosofia zen pensiamo alla scuola di Kyoto quindi dalla seconda metà dell'ottocento fino grosso modo ad oggi se vogliamo individuare la scuola giapponese e la scuola di Kyoto passata come tale e beh e loro vanno a porre tutto sul nulla addirittura non sull'essere sul nulla e il nulla diventa la dimensione più profonda ancora più profonda di quello che noi chiamiamo essere quindi è proprio il concetto di essere o il concetto di forma che fanno veramente difficoltà a entrare in un'ottica orientale se vogliamo mettendo tutti insieme facendo anche un po' un calderone perché dire orientale è veramente dire nulla perché c'è talmente tanti mondi che è impossibile dire orientale però per far capire ci potrebbe essere c'è questa distinzione di fondo che a molti filosofi occidentali ha detto in oriente non c'è filosofia cioè molti filosofi occidentali del dove ci entro hanno affermato anche ciò proprio perché manca questa visione del concetto poi scusa cioè che poi in oriente lascia parlare Zoe poi ti rispondo io no no volevo solo dire che io so che in oriente c'è proprio questa distinzione tra occidente e oriente cioè in oriente c'è questa dimensione di base più collettivista non so come dirla mentre in occidente è più individuale la filosofia si basa più sul singolo forse in questo senso si è sviluppata più in questo modo e quindi è difficile trovare punti di contatto come dici tu no che avevi appena detto che non c'è questo essere ma in realtà è più appunto una dimensione di flusso e assolutamente se posso rispondere io a Zoe eh sì ma però se posso rispondere io a Zoe però quello che dici tu critica un essere aristotelico in effetti sì forse per quanto io conosca poco le filosofie orientali cioè che a me non sembrano troppo diverse da quelle occidentali tipo per me magari una e par meglio non mi sembrano diversi e mi sembra che manchi la concettibilizzazione appunto come ho anche detto Zoe dell'individuo quindi non c'è l'aristotelismo forse poi non lo so ovviamente ci sarà anche forse non va non va per la maggiore quello che andava per la maggiore fino a un certo punto in occidente quindi forse non c'è il tentativo di concettibilizzazione dell'essere inteso come essere individuale e anche l'affermazione del nulla è una nullificazione degli esseri individuali non c'è non affermare la totalità anzi penso che a quello che capisco io tutte quelle filosofie orientali del vuoto che affermano la vuotezza di tutta la realtà siano proprio un tentativo di affermare la totalità e quindi affermano la nientità dei singoli cioè quindi non mi sembra così diverso dal concetto di essere poi appunto bisogna andare a vedere cosa si tende con essere però forse c'è la rinuncia alla concettualizzazione delimitata c'è pura ontologia anche se è difficilmente distinguibile dalla reologia cioè da un discorso della criteo del flusso come detto tu dell'impermanenza o dalla meontologia se affermi la nullità comunque non c'è il tentativo della concettualizzazione del diverso di questo che non è quello forse però appunto possiamo dire che non c'è la metafisica del tentativo di porre le linee tra questo e quello ma che non ci sia l'essere non lo so poi non sono assolutamente esperto per poter dire però così per sentito dire mi sembra più negatrice delle dell'individualità dei concetti generali astratti queste cose qui come l'idea di cane sicuramente sì l'idea di cane in quanto realtà iperuranica universale ovviamente non c'è viene meno l'idea di individuo assolutissimamente sì però non è una mistica cioè il pensiero orientale non va trattato come mistica anche l'idea di essere è e il non essere non è quindi una contraposizione netta cioè il principio di identità e di non contraddizione in oriente non c'è non è solamente un principio logico diventa anche un principio ontologico se vogliamo parlare di ontologia in oriente anche la citazione che mi hai fatto di Nagarjuna in effetti è presente si può collegare con Parmede però Nagarjuna era anche il filosofo della logica della negazione cioè poneva la negazione all'interno dell'essere Nagarjuna negazione le quattro negazioni cioè una roba logica abbastanza complessa che aveva impostato per cui dava giustificazione alla negazione per cui bisogna vedere per esempio solo qua poi chiediamo su questo parentesi che è un po' fuori dal discorso però dice che un effetto diverso dalla causa è impensabile è un effetto identico alla causa è impensabile quindi non c'è un principio dell'identità con se stesso cioè c'è anche lì un pensiero della realtà come identità di ogni frame con se stesso dell'impossibilità di divenere alto di qualunque porzione di realtà lì c'è questa credo sia innegabile questa formula qua poi non so se è un'eccezione Nagarjuna o Nagarjuna come si dice però non c'è il tentativo di concettualizzazione non c'è hai detto bene non c'è Aristotele né Platone ma perché quelli sono come dire metafisici cioè sono e fondano più i nomoi cioè i concetti sulle basi di cui sulle basi di quali possiamo non cercare la verità ma organizzare il mondo per che ci faccia comodo per le nostre linee immaginarie che vanno bene per se dovete imitare i bordi della strada come tra i paesi inteso di nazioni come come possono esserci anche quelli che delimitano un animale da un altro anche in occidente è caduto il tentativo di pensare come originariamente diversi gli animali per esempio quindi non c'è quel tentativo di fare metafisica che magari è stata realista per tanto tempo in occidente poi si è adegiata su un nominalismo dico io però sulla tematica generale dell'essere secondo me non è così diversa appunto perché non c'è la metafisica però vabbè queste sono note a margine direi che se qualcuno vuole dire ancora qualcosa sull'argomento taccia ora cioè no parli ora taccia per sempre come si dice no volevo solo appunto dire una cosa finale poi chiudiamo perché è un discorso interessantissimo ma che porta molto fuori dal focus ovviamente off topic però effettivamente quando si affronta o si leggono i testi orientali soprattutto filosofici ma non solo anche tratti dalla tradizione e quant'altro poi anche lì dipende quale oriente vai a vedere cioè l'oriente è talmente vasto che ci sono mille tradizioni con mille livelli di riflessione diversa sul tema però appunto di essere interpretare secondo me dal punto di vista ontologico le filosofie orientali porta un po' fuori da quello che forse sono effettivamente se si può fare con in parte con l'induismo ma solamente in parte con le filosofie dell'estremo oriente Cina e Giappone secondo me diventa veramente veramente in alcuni passaggi un po' una forzatura e forza che se ne sono accorti i filosofi stessi giapponesi cioè Nishida Kitaro quando va a scrivere intorno agli anni venti del secolo scorso scrive una roba bellissima si intitola luogo basso e effettivamente ha una revisione totale di tutto quello che è la filosofia quando giunge poi il punto di quel luogo di assoluto nulla lui lo definisce così che effettivamente per noi occidentali è un abisso mentre invece per loro è secondo una definizione zen appunto lo scrigno inesauribile con nulla dentro è proprio un rovesciamento c'è proprio un cambio di paradigma che ha delle conseguenze ovviamente poi logiche a pioggia completamente distanti rispetto alla nostra quindi forse è anche bello vedere le due tradizioni diverse e vedere cosa può venire fuori dalla fusione oppure dalla sostanziale intangibilità di entrambe quindi bisogna appunto vedere di quale oriente si parla quello appunto dell'estremo oriente secondo me è proprio un'altra cosa poi opinioni mie ovviamente non sono sembra molto simile comunque per non dire la stessa cosa detta in maniera diversa ma vabbè opinioni no comunque io dicevo solo lo dico sulla base di di dove trovo citate le cose di filosofia orientale nei libri di fisica divulgativa anche soprattutto quelli scritti ma no ma da tutti i fisici non solo quelli orientali anche uno è Trinquantuan forse c'è anche un libro ma anche lo stesso Rovelli ma anche tantissimi altri cioè se la prendono Trinquantuan soprattutto ma poi anche altri se la prendono con Aristotele per gli errori di fisica per dire che invece la vuotezza della filosofia orientale taoista buddista eccetera è più è più simile alla fisica di oggi che quella di Aristotele eccetera vabbè chiudiamo questo capitolo direi Pat ok ok c'è ancora qualcosa mince stavolta niente no possiamo chiudere mi erano venute delle cosine da dire sulla questione dell'ess che avevi tirato in ballo prima ma non importa le approfondirò magari la prossima volta in apertura e quindi ringrazio tutti quelli che si sono collegati durante le nostre letture rimandiamo alla registrazione che a breve sarà disponibile nel saluto culturale poi su youtube su arena filosofica se vi vengono a mente delle domande o delle riflessioni le potete scrivere tranquillamente sul gruppo e noi ci riaggiorniamo alla prossima settimana per un altro incontro e se avete suggerimenti consigli critiche chiaramente sono tutte benvenute e vi ringrazio anzi vi ringraziamo Simone Mancio Xorencio Manu e appunto tutti quelli del salotto culturale grazie a tutti e buona serata mi sembrava esatto ho visto si Antonio che aveva alzato la mano ma è scappato e quindi nulla spero che si ricolleghi la prossima settimana così magari ce lo dice poi va bene buonanotte a tutti grazie si chiudi buonanotte